Lunedì 26 aprile in Puglia sono stati registrati 5.792 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 477 casi positivi, 100 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia Bat, 208 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 37 decessi, di cui 12 in provincia di Foggia. A Lucera scende a 461 il numero dei cittadini attualmente contagiati dal virus, 48.728 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia. E' cominciato nella mattinata del 26 aprile il sit-in del consigliere regionale Antonio Tutolo davanti alla sede della regione Puglia, Bari, per sensibilizzare i politici ad introdurre protocolli per l'umanizzazione delle cure, soprattutto per consentire ai malati Covid ricoverati in terapia intensiva di ricevere le visite e le cure dei parenti stretti. Dopo poche ore dall'inizio del sit-in, Tutolo ha avuto un incontro con il vicepresidente della giunta regionale Raffaele Piemontese, il quale ha garantito che la proposta di legge sul tema potrà approdare al più presto in terza commissione ed in consiglio regionale. In particolare è stata data piena disponibilità sia dal presidente della commissione sanità Mauro Vizzino per portare la proposta in discussione già la prossima seduta di venerdì prossimo, sia dal presidente del consiglio regionale Loredana Capone ed alcuni capigruppo per inserirla all'ordine del giorno della prima seduta consigliare utile. Ringrazio vivamente il vicepresidente per la sensibilità mostrata e la propensione al dialogo e comunico pertanto la sospensione della mia protesta, ha commentato Antonio Tutolo in seguito all'incontro. Con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio sono stati indicati criteri cui i comuni dovranno attenersi per richiedere le risorse disponibili nel triennio 2021-2023 per interventi mirati sulla rigenerazione urbana. Lo ricorda Lance, l'associazione dei costruttori ed ili di capitanata aderente a Confindustria, in una nota in cui si richiama l'attenzione dei sindaci sull'importante provvedimento governativo. Si tratta di una misura straordinaria di notevole interesse, spiega il presidente del Lance, Ivano Chierici, che rappresenta un sostegno nella politica degli investimenti dei comuni per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Saranno gli enti locali i protagonisti attivi di questa iniziativa, precisa il presidente del Lance, perché spetta ai comuni inoltrare le domande di ammissibilità entro il prossimo 4 giugno, seguendo le procedure indicate sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del porto alti fondali di Manfredonia. Un via libera molto incoraggiante per le strategie dell'intera Puglia, che con il ripristino di un'infrastruttura che nel 1970 era considerata tra le migliori in Europa, riconquisterebbe una dotazione decisiva per la logistica integrata tra terra e mare. Ha detto così il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, come il nuovo codice degli appalti, ridefinisce l'ex progetto preliminare. Stima in 120 milioni di euro le risorse necessarie per la profonda riqualificazione necessaria ad un'infrastruttura che si snoda nel golfo di Manfredonia per due chilometri e si articola in cinque banchine. Tutti gli interventi proposti mirano principalmente l'obiettivo di incrementare la capacità delle strutture esistenti su tutti i corpi del bacino altifondali in termini di resistenza, rigidezza e durabilità.